Io sono Francesco Pacifici, anni 79 appena compiuti, sono venuto qui grazie a Facebook, perché io ho visto le pubblicità su Facebook e la cosa mia, vedere le varie interviste, le varie pubblicità del dottor Palmas, mi è un po' intrippato, ho cominciato a guardare i vari feedback e non ho trovato feedback negativi. Sono venuto proprio perché io ero stufo di andare dal dentista, perché io avevo una protesi mobile e dei denti inferiori consumati, perciò io avevo questa protesi mobile che cominciava a traballare, i denti sotto erano piatti, io mi ascicavo, io non masticavo più, effettivamente non ho avuto sorprese, perché ho trovato quello che mi aspettavo. Perciò la gente è carina, gentile, come qualsiasi ottimo studio dentistico che abbiamo anche in Italia. Eppure sono stato lì tranquillo, mi ha fatto il lavoro, qui i dottori, tutta gente giovane, carina. Io allora non avrei nessun problema a portare qui qualcuno. Tanti l'idea di venire a Moldavia sembra di venire chissà dove, due ore di aereo da Milano, perciò non è niente di che. Il mio sogno è provare a masticare, a mangiare una mela, come fanno la pubblicità, quando fai di crack, masticarti la mela con la buccia. Anche mangiare la carne, la carne io non riuscivo a masticarla, mi ascavo. Io mangiavo e sputavo, non era il massimo della vita. Però non potevo masticare.